Ebbene sì, il video è tanto atteso che tutti quanti stavano aspettando che tutti mi hanno chiesto in collaborazione con Ferre, ciao Ferre Io sto tremando signor Grax È un momento altissimo perché questo Ferre sarà il primo test della regina all'interno del 2.6 Nostri deck perché anch'io farò la stessa cosa signor Grax Attenzione, quindi altra diciamo lato della medaglia Ve chiedo però umilmente 50.000 like Codice Grax, codice Ferre, attivate la campanella E Ferre lo trovate in descrizione, passateci perché ha superato 300.000 iscritti Dagli quelle iscrizioni che è gratis Per tutto il supporto che vi stiamo portando, tutti i contenuti eccetera Infatti vi faccio vedere che sto prendendo le level chest E abbiamo capito che nella parte basso c'è quelle di livello basso Non ti dà il campione ovviamente garantito ma ti dà le leggendarie Tipo le prime neanche, la leggendaria eccetera Questo qua è il baule di livello 10 Poi c'è quello di livello 11, farò la stessa cosa anche sull'account originale E io penso che... Ci troveremo poi tutto, quindi tutti faremo dei megabox opening Esatto, una carrellata dei bauli Io credo che il campione possa uscire solo all'ultima Qui abbiamo un jolly, ad esempio Non mi dà neanche la doppia leggendaria Baule di livello 13 Leggendaria Non mi sbagliavo E il livello 14, ragazzi È garantito, vediamo chi troviamo Io già ho tutto quanto, quindi qua metà oro Attenzione 6 ricompense, jolly Esatto Doppia leggendaria Ma lei ce l'ha maxato il campione Quindi in teoria dovrebbe... La mia domanda è Quando trovi una leggendaria che hai la pila piena Ti ridai indietro mi sembra 20.000 monete Esatto Se trovi un campione e hai la pila piena Quanto ti dà indietro? Attenzione, lo scopriamo adesso Wow, animazione incredibile! Mi dica quanto, signor Gregsoni 40.000 monete! Oh my god! Ma l'animazione è un qualcosa di incredibile Bisogna andare a maxare un campione prima E io, signor Gregsoni, quella non l'ho ancora vista Quindi è... Cioè... È rimasto così Spettacolare tutto questo nel video Quindi io penso che 50.000 like Credo sia il minimo Siano quasi pochi Quasi pochi E niente, abbiamo per tutto quanto il viaggio del re Cita questo baule Ricordo che il baule, quello che te lo dà garantito Sta anche nel pass alla trentesima soglia Pass gratis Ma si potranno trovare anche all'interno dei bauli normali Con rarità o probabilità molto bassa Io sono un bello carico Vado con la regina La mettiamo al posto del moschettiere Tutto a livello 11-13 Tanto ragazzi si vanno amichevole Deck 2.8 diventa Attenzione Perché costa leggermente di più Ferre Amichevole Si parte Io sto in hype Siamo carichi Siamo carichi Allora sappiamo che il gigante lo scioglie Ma anche il gigante elettrico lo scioglie C'ha più vita È un po' strana la situazione Vediamo adesso Adesso vediamo Vediamo Non so se può funzionare Allora io posso fare il cycle Ok Cerca di ciclare ferre Poi abbiamo fatto un regalino Se riesca ad attivare impazzisco Mi sa No è perfetto È perfetto Sì Timing è perfetto Dai dai Non manco farlo opposta Oddio Partiamo malissimo ragazzi Attenzione Eccola là Attenzione Vieni vieni regina Che ti aspetto Vieni Vieni che ti aspetto Che ci metta anche la mia Vai Ma questo Ma questo Tricchettino qua Dele graxone Ma questa mossa E se io facessi così No È partita Siri Non si è visto Mamma mia Quanti danni ragazzi Mamma mia Quanti danni Ok Ne serve il log Non ti metto la Terry Non ti metto la Terry Perché ti faccio così Vediamo un po' E vediamo un po' Eccola No No regà Colpa di Siri Colpa di Siri Ma a parte Siri Regà Se sta sotto torre Te piglia pizze Qualsiasi cosa Non c'è senso Non c'è senso Non le ho neanche messo la Terry Cioè proprio Non ho voluto neanche Non mi interessava Contrare Oh my god Che roba Ma quanto è forte La Queen Ok Questo è andato dritto Ma ce la terremo L'altro Questo è andato dritto Ci sta E infatti Proviamo a fermarlo così Qualche danno Ma io non so come È infermabile Quando diventa invisibile Ho capito che costa sei Ma Oh Dai 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 Oh Attenzione Attenzione Perché forse Le la tolgo lo stesso Sì Ragazzi Fermi tutti È tosta Ve lo dico Bisogna capire Come funziona la Queen Devo gestirla bene Che roba incredibile Che carta assurda Ragazzi C'è un'ansia ragazzi Ma hai fatto prima Il 70% della torre In un secondo Sì È a casa Infatti Cioè se Ok questa è buona Bello lì Ok vai così Sì Adesso dovrebbe arrivare Il cannoncello Regola No è vero Se sta sotto quello Comunque subisce danni Adesso però Io ho l'elisir Per piazzarle Anche il Aspetta Facciamo così E facciamo così Se riusciamo No Me l'ha chillata sul più bello Oh my god Vai domandone Me l'ha chillata Me ne serve un'altra Me ne serve un'altra Vai Vai Sì No Ok Sì una hit La ben tirata Vai così Attenzione Ragazzi aiuto Ragazzi sto cercando Di recuperare Rischiosissimo Qua facciamo così Facciamo così Anche Ok Ci sta Vai Queen Oh my god Oh mio dio È una cosa indecente Fermatela Che recupero Regà Non l'ho più fermata Infermabile Ragazzi Io vi chiedo 100.000 like Io vi chiedo 100.000 like Non so se avete visto La partita È incredibile Incredibile Ma della serie Che le win condition Non servivano Domatore Giant Non serviva C'era lei Che giocava È pazzesca La dobbiamo trovare La dobbiamo trovare Assolutamente Secondo me Sul 2.6 Ci sta Cioè Se giocata bene Con cognizione di causa Ci sta Follia Follia Secondo me Tutti con rocket Egrexone Tutti con rocket Per forza Bait di rocket Vai Che spettacolo Allora Quello non arriva Mi sa Non dovrebbe C'è un così Ok Knight arriva Perfetto No Ok Rocket sarà fondamentale Veramente fondamentale Eh sì Ragazzi Puoi fare una rovetta Del genere Ok Che vorrei far così Resisti Resisti Bella mia Resisti Resisti Bella mia Dogli tutto Dogli tutto Dogli tutto Dogli tutto Eh però Attenzione Ok Un bello scambio Ok Sì 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 E non essendo morta No No riparte Non essendo morta Corri Veloce No 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 Forse troppo presto L'abilità Devo aspettare un secondo E miseriaccia Ragazzi Che infarto Io non ho parole Che infarto ragazzi Non ho parole Di quello che stiamo testando No ragazzi La Queen Penso che È quella che costa di più Però È quella più rotta Oh C'è ragazzi Che aggiornamento Ragazzi Supercell Attenzione Veramente C'ho Tremono le mani Regina Belli potenti Ok No ma il bello C'è lo scioglie Il golem delle sere Il gigante elettrico Ho detto il golem delle sere Aiuto aiuto No Non ci credo Il Quell'ice golem Ragazzi È stato decisivo No vabbè Ti ha tolto la Queen Di Eslu Gli ho sbagliato Di brutto Gli ho sbagliato Di brutto Perché la spelle La prende lo stesso Ragazzi Questo errore ragazzi Costerà carissimo Sto sperimentando Io ve lo dico Bisogna fermarla In qualche modo Ma È infermabile Mamma mia Mamma mia Raga Mamma mia Aiuto 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 Vediamo un po' Aiuto Aiuto Vai bello Sì Vai zia Vai zia Potresti anche ricaricarla Però mi sono Non fa in tempo Aspetta che Trovo a toglierla Ok Io sono senza parole Vai giant Eh ma giant Vai ma dove va Ma dove va Tribulava quella moschettiera Guarda questa Possibile Non l'ho abilitata Cioè se parti così Puoi spaccare tutto Qualsiasi roba Te metti dietro Davanti al domatore Ci puoi sfondare un pecca Eh infatti Ci puoi sfondare un pecca No è troppi Troppissimi danni Cioè E se non va giù Guardate È un costo di uno in più Bam Eh dovrebbero annullarsi Eh no Però il 2 Aveva già ricaricato l'abilità Attenzione Prendiamo così Tostissima ragazzi No no È veramente tosta Perché sai Il domatore Provi a piazzarle La prova il doma Vai Va a torre È quello Già è intervento E lui bisogna dare sui tempi Esatto E rispara Sfonda tutto Io farei l'ultimo match Provo magari ragazzi Anche a improvvisare Uno spiritello fire Per dare un po' De variante Al 2.6 Eccolo qua Giusto per capire Magari fa quel danno in più Potrebbe dar fastidio Io a sto punto Provo così Tac Sono senza parole Ma sapete qual è la cosa Ancora più folle Che se voi La utilizzate in difesa E vi rimane in vita Dopo la difesa Avete il tempo Di ricaricare l'abilità E utilizzarla in attacco Senza riutilizzare la carta Eh sì ragazzi Cioè avete due abilità È una cosa Che non ha senso E puoi ficare Anche più in fretta Con quella Esatto È una carta in meno E quindi il domatore Va più veloce È folle Mamma mia ragazzi Che carta assurda È tipo una gara A chi la piazza Più tardi L'oggettino Ok facciamo così Vabbè il domatore Me lo scioglie Speriamo Ok Attenzione Attenzione Facciamo così E però qua Eccala 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 Folle 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 Io neanche le giant Non ne ho neanche riuscito A ciclare ancora Male male Non ha proprio senso Rispetto agli altri eroi Gli altri sono Ok ci stanno Li puoi loggare Ma questa non c'ha senso È rottissima Dobbiamo trovarla Speriamo bene Che ci dia subito questa Eh sì Chi arriva al 14 Sblocca questa Come garantita Eh tanta roba Poi metti subito libri Jolly A parte che non c'è Messer Jolly Per gli eroi Però dovrebbe funzionare Il libro dei libri Se non ricordo male Attenzione Attenzione Quello sarebbe Molto pesante Sì Sì doppio libro dei libri E si gode Attenzione qua No no qui tocca Andate spelle per forza Spelle per forza Veloce 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 Guarda come difende Ok vai 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 Bello È però vedi che Con l'abilità La riesco ittare Sì Tu potresti abilitare No Forse ci siamo Vai così Vai zia Infermabile Infermabile Regina sposa Mi ti prego Se ti rimane con il capello De vita E ti attiva l'abilità È finita Mamma mia Ragazzi Che spettacolo Potere giocare ore Un gameplay così Domatore fa una hit Attenzione Forse anche due No Attenzione Va bene Recuperarla per me È impossibile Però Nel dubbio Se si riesce Opla Veloce Oh scambio di abilità No Dove vai zia No Attenzione C'è stato forse un miss Eh sì Ho attivato l'abilità Presto Eh ma non so Se riuscirò a tirar giù Quell'amichetto lì Vediamo Vai Non riesca Eccola qui Proviamola così Vai zia E questo è un problema Penso Parte il miss The fireball Fermalo Sì vai Spara Una matta Dai Spara un arco x Vai Ragazzi Io sono Totalmente Sconcertato Di quello Che abbiamo appena registrato Forza 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 Signor Grezzone Per me il video Meriterebbe 100.000 Mi piace Solo perché Forse ne vinco una Questi sono 100.000 Ferre Questi sono 100.000 Ce lo meritiamo Ragazzi Per quello Che stiamo portando Comunque Le giant È una bella Rottura di scatole Perché se ci passa Sopra No guarda Con la tornadino Adesso che ho provato Usare la tornadino Ha fatto una bella Differenza Perché Ho notato una cosa Che oltre A far più danni Palesemente Questo ce ne avevamo Accorti Ha un ratio Di fuoco più alto Sì E quindi Le giant Riesce a sfruttare Di più la sua abilità Questo non ci avevo Fatto caso Ragazzi Io Sono contentissimo Di questo video Questa carta È totalmente sbroccata In raggiazione Portata 5 Ecco infatti Rispetto al moschettiere Volevo andare a vedere Il mosche Mi sa che c'ha 6 C'ha una piastrale in più In meno Scusate Rispetto al moschettiere Potrebbe sentirsi Però ragazzi L'abilità Soprattutto con 2.6 Che cicli Rifai parecchi Liser Insomma è devastante Vedremo Yasu Chiederemo ad Yasu Se la metterà nel deck Sicuramente lo farà Ciao Magari la gestiremo Anche in ladder Like Iscrizione Campanella Codice Grax Codice Ferre Passate da Ferre Iscrivetevi Perché usciranno Un sacco di interessanti Grazie Oltretutto Graxone Ricordiamo una cosa Che per tutti quelli Che adesso sicuramente Nasceranno Tutti i nostalgici Dei pre Campioni C'è proprio La 1v1 Definitiva Tra di noi Senza campioni Pulita così È vero Poi Lerone Nei prossimi giorni Più avanti È un video devastante Anche lì Lascia stare Lascia stare Bacioni Ciao ragazzuoli Ciao 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 belli